Dopo un triennio che porta una qualifica di operatore idile, la qualifica base per entrare nel mondo del lavoro, nel settore delle costruzioni, è possibile poi succedersi di ulteriori step, gradini, che consentono da un lato di ad esempio rientrare nel mondo della scuola e rilascio di un diploma con il percorso del CAT, oppure continuare con il percorso della formazione tecnico-professionale, sempre secondo una modalità duale, quindi iterazione tra mondo dell'impresa e mondo della scuola e quindi un percorso che vede l'allievo impegnarsi sulla preparazione teorica e la immediata applicazione pratica delle nozioni apprese. Questo per gradini, quindi con possibilità di scegliere e di proseguire per un anno, due anni o anche quattro anni con l'Istituto Tecnico Superiore a Padova nel settore della costruzione c'è l'ITS Red Academy.